Espiritu de Veruel è un progetto internazionale, un corso di composizione musicale di cui parliamo da tempo, presentato lo scorso 8 ottobre in una conferenza stampa dal direttore artistico per l'Italia, Diodato Arru. A che punto siamo? Come si sta evolvendo la situazione? Dunque, le risposte che abbiamo ottenuto dopo la conferenza stampa, da voi ampiamente documentata, sono risposte non tranquillizzanti e sufficienti per quello che noi chiedevamo. Noi chiedevamo un impegno politico, culturale, vista l'importanza della manifestazione, vista la sua risonanza internazionale, vista la sua ricaduta turistica ampiamente affermata in altre occasioni. E quindi prima di ogni considerazione economica, che noi peraltro abbiamo anche presentato, ci interessava il fatto che l'amministrazione, in primis quella di Alghero, quella uscente, e le istituzioni prendessero una posizione per portare avanti comunque questa importante manifestazione. Allo stato attuale queste risposte non le abbiamo avute, perlomeno come noi volevamo, e quindi c'è il serio pericolo che questa manifestazione voli da un'altra parte. Questo mi dispiacerebbe come compositore e soprattutto come algherese. Mi pare, devo dire senza alcuna polemica, né di tipo politico né di altro tipo, che qualcuno non abbia compreso l'importanza strategica di un'amministrazione di questo tipo, la sua grande risonanza culturale, quello che potrebbe avere in Europa da questo punto di vista, e la ricaduta che avrebbe nella città e sulla Sardegna intera. Questo mi pare ad oggi la situazione. Oggi c'è un commissario consigliare, avete già avuto contatti con lui a proposito del progetto, e soprattutto ci sono dei termini in scadenza, si rischia davvero di perdere in questa occasione? Noi chiederemo certamente un incontro al commissario straordinario, chiedendogli di organizzare una conferenza di servizi, anche perché alcuni autorevoli politici locali e regionali di tutti i partiti sono espressi positivamente su questa manifestazione. Quindi noi chiediamo che il commissario possa convocare un tavolo di servizio con la provincia di Sassari, con la regione Sarda e altri enti per cercare di salvare la possibilità che l'amministrazione tocchi la nostra città. Devo dire che i tempi sono strettissimi, noi abbiamo tempi che credo non possano andare oltre la fine di questo mese o massimo l'inizio del prossimo, perché diversamente le cose volano da altre parti, ci sono, come abbiamo detto altre volte, altre richieste, quindi questo sarebbe una cosa che a me come direttore artistico dispiacerebbe, ma mi dispiacerebbe soprattutto come algherese, anche perché ritengo che questa città abbia tutte le caratteristiche giuste per ospitare manifestazioni di questo tenore. E lo spieghiamo. Non solo Veruela, tuttavia per Diodato Arro e per la sua carriera di compositore, quali sono gli altri progetti che la coinvolgono? In questo momento, oltre all'esecuzione del mio pezzo per flauto archi con lo scherzo del Champ de Lyon, sto lavorando a un progetto bellissimo che è iniziato già nel 2005 con un seminario drammaturgico col grande drammaturgo sinisterra, spagnolo sinisterra. Sto lavorando a un quartetto d'archi, per un importante quartetto che è un problema che riguarda un progetto di teatro musicale contemporaneo, partendo appunto dalla composizione di questo quartetto che mi è stato commissionato. Questo è un progetto a cui tengo molto e spero che si possa concretizzare in pochissimo tempo.